L'Amen Scuola Basket Arezzo soffre ma batte Bama Alto Passo e così al Palasport Estra gli Amaranto ottengono la seconda vittoria consecutiva. Partono forti i ragazzi di coach evangelistiche con due triple vanno subito sull'11 a 4 costringendo la panchina di Alto Passo al time out. La reazione ospite è affidata a Salazar che con i suoi tiri dalla lunga distanza riporta i suoi sul meno 3 alla prima sirena. La sbaria lunga nuovamente nel secondo quarto portandosi a suon di triple sul più 19 36 a 17 quando la partita sembra prendere l'indirizzo favorevole al quintetto Amaranto. All'intervallo lungo l'Amen è avanti 40 a 32 ma l'inerzia della partita comincia a cambiare tanto che gli ospiti di coach pistolesi si portano fino al meno 1 a metà terzo quarto. La partita va a strappi ma Arezzo non riesce a dare il break giusto subendo subito il recupero degli avversari che alla terza sirena si portano sul meno 4. Nell'ultimo quarto gli Amaranto faticano nei primi minuti con il Bama che pareggia a quota 58. Alto Passo prova a rientrare ma non riesce nell'ennesima rimonta e alla fine il punteggio premia l'Amen finisce 73 a 65. Due punti importanti per la squadra di coach evangelisti che domenica prossima sarà chiamata la trasferta di Lucca la prima di tre partite in una settimana che saranno importantissime a livello di classifica. Io sono abituato che quando si vince forse è il miglior momento per guardare le partite e vedere di migliorare quello che secondo me sì un po' di cose le condivido c'è però anche da dire che noi avevamo 19 punti di vantaggio in pochi minuti poi l'abbiamo perso tutti e siamo ritornati a pari quindi al di là della loro bravura siamo noi che siamo calati in difesa questa cosa diciamo ci deve far riflettere perché l'intensità difensiva non va mai calata capisco che sia difficile tenere la 40 minuti però questo è un altro problema ancora un po' troppi errori però diciamo quando si vince ovviamente va tutto meglio era una partita importante molto importante non tanto per come si sta muovendo la classifica quindi gioiamo in questa settimana e vediamo di prepararci per la prossima